Salve a tutti ragazzi e bentornati su Pokemon Zaffiro Alpha, la guida in collaborazione con PokemonTimes.it Ed eccoci qui ritornati al Porto Selcepoli dove oggi esploreremo molte cose, ho molte cose da farvi vedere Partiamo dal mercato di Porto Selcepoli che si trova da questa parte Benissimo Conosci l'MT Forza Segreta? È la preferita della mia gang Fatela dare da uno dei nostri e poi torna per mostrarmela Sarai ammesso nella gang e potrai comprare merce di qualità a buon prezzo Quindi questo tizio vi venderà della roba importante per la vostra base segreta Magari tornate dopo aver ricevuto Forza Segreta Da questa parte troveremo una vecchietta Un po' di pazienza, sto preparando Fra poco potrai comprare qualcosa di queste graziose bambole Lì c'è qualcosa che luccica ragazzi Cos'è? Ragazzi troviamo la Lacazamite, la nostra prima megapietra E niente, tipo qui troviamo delle megapietre a random in mezzo alla strada Benvenga, sì Aromi fragranti Aggiungi una nota profumata alla vita di tutti i giorni Quindi potremmo comprare delle arome Che non voglio comprare per adesso Da questa parte invece troveremo un altro piccolo stand Oh, il tuo Grovile Devi impegnarti di più Se riuscirai a fare meglio darò qualcosa di carino al tuo Pokémon Ci darà un fiocco di merito Lui sì Insomma, premierai il nostro Pokémon Dopo un bel po' di tempo Dopo magari averlo allenato per bene E dopo averci stretto un'ottima amicizia Basterà ritornare qui Insomma, farsi dare il fiocco di merito Io sono l'Energivend Lo rivolgiti a me se vuoi dei Pokémon pieni di energia E qui potremo comprare delle medicine Del tipo proteine Ferro, calcio, zinco, carburanti, eccetera eccetera Ma... I miei soldi sono un po' pochi Da questa parte invece Qui vendiamo macchine tecniche E avremo a nostra disposizione Unghia guzze, tono onda, entomo blocco e confidenza Da questa parte Owen è famosa per il suo mare limpido Che è anche una delle sue ricchezze principali Le alghe da questa parte Da questa... Aspettate un attimo Le alghe Da queste parti sono fresche e piene di vita Sembrano così forti da poterti persino saltare addosso Ah, così a random Fare acquisti facendosi accarezzare dalla profumata brezza dell'oceano Dove? A Selcepoli naturalmente È una città straordinaria Qui c'è della roba Owen... Owen... O'Hanger I paladini dell'armonia Gli eroi di Owen C'è anche la statuetta di Albanova Cryzon E l'O'Hanger un po' pasticcione ma intrepido Purtroppo Il cartellino del prezzo è strappato e non è possibile vedere quanto costa O'Hanger Che sarebbe? Ok, da questa parte troveremo il... Pokémon Fan Club Per tutti i fan dei Pokémon Salve Lei cosa ci dice? Sono contenti i Pokémon quando dai loro certi... dai loro certi strumenti Il mio sembra davvero felice quando gli ho dato una proteina Buon per lei Tu cosa mi dici? È edificante vedere i Pokémon affezionati ai loro allenatori I Pokémon sono molto sensibili ai sentimenti dei loro allenatori Se tratti i tuoi Pokémon con amore e cura ti vorranno bene a loro volta Se vuoi mostrarmi i tuoi Pokémon più affezionati ne sarò felice Il tuo Pokémon ti adora? Ecco un omaggio per un allenatore sensibile da parte del fan club Quindi otteniamo una Calmanella Grazie mille Insomma la Calmanella serve a stringere molta più amicizia con il Pokémon che si vuole E lui? Lui chi è? Oh, salve Ehm Sono il presidente del Pokémon Fan Club Ovvero il suo membro più autorevole Essendo il presidente nessuno allena i Pokémon meglio di me Nessuno In ogni gara la mia vittoria è scontata Ma ciò priverebbe gli altri di qualsiasi divertimento Quindi passo il tempo a esaminare i Pokémon altrui È meraviglioso osservare come gli altri allenano i loro Pokémon L'espressione felice dei Pokémon è ben allenati Gli sguardi attenti e amorevoli dei loro allenatori Il mio cuore è pervaso da una gioia immensa Oh cielo Scusa ho chiacchierato troppo Permettimi di esaminare uno dei tuoi Pokémon per vedere come sta crescendo Mmm Mmm vedo Mmm non c'è male Ma puoi fare di meglio Devi impegnarti di più quando alleni questo Pokémon Ad esempio ti posso suggerire di dargli più Pokémon? Proprio le Pokémon Le Pokémon ci verranno consegnate un pochino più avanti Magari vi farò vedere questo nel prossimo episodio Benissimo Adesso se non sbaglio Dentro il Pokémon Market avremo la possibilità di comprare molti più oggetti Esatto Avremo la possibilità di comprare sia delle Pokéball e delle Megaball Quello era scontato Ma inoltre anche delle pozioni, superpozioni e iperpozioni Dei revitalizzanti, degli antidoti, delle sveglie, degli antiparalisi Delle fune di fuga, dei repellenti e anche dei super repellenti Ed è proprio ciò che comprerò Preferisco comprarne 5 Invece per le Megaball 3 vanno bene Ok Andiamo via Benissimo Da questa parte ci dovrebbe essere un'altra roba Questo cos'è? Leggiamo il cartellino Scalo di Selcepoli La motonave Marea è in costruzione presso il cantiere Entrerà in servizio tra breve Ok vabbè Non è importante per adesso farvi vedere tutto ciò Ma da questa parte noteremo una grande fila Verso il Museo Oceanografico Perché ci sono tutte queste reclute del Timidro? Il Timidro ha l'abitudine di riunirsi sul luogo delle operazioni per poi sparpagliarsi Ok E l'unico lavoretto che dovremo andare a compiere sarà Consegnare la merce Devon al Capitan Remo Entrando dentro questo cantiere Ma stiamo un po' a vedere Se questa cosa va qui e quella va là Allora questa dove va? E quella Geggio lì? Ah non ne vengo a capo Che succede? E tu chi sei? Ciao sono Timon Il Capitan Remo mi ha incaricato di progettare un traghetto Oh che cos'è? È la merce Devon? Fammi pensare Il Capitano non c'è Forse è andato di nuovo al Museo Oceanografico Ti va di cercarlo e consegnargli direttamente la merce? Ed è proprio quello che farò Quindi uscendo dal cantiere E ritornando al Museo Oceanografico Improvvisamente vedremo che le reclude del Timidro Non ci saranno più Quindi Entriamo dentro il museo Benvenuto al Museo Oceanografico L'ingresso costa 50 poche soldi Vuoi entrare? Ah 50 Mamma mia Costa un occhio l'entrata Ok E troviamo queste reclude del Timidro ad osservare Certe esposizioni Curiosità sull'Oceano 2 Perché il mare è salato? Il mare contiene sale disciolto In forma di ioni di sodio e cloro provenienti dalle rocce La concentrazione del sale disciolto rende il mare salato Easy no? Curiosità sull'Oceano 1 Perché l'acqua del mare è blu? La luce è composta da molti colori In genere quando attraversa l'acqua la luce perde il colore Tuttavia La luce blu mantiene il suo colore dando al mare il suo aspetto tipico Ok E queste reclude cosa ci dicono? Ci hanno detto di riunirci tutti qui ma Il nostro capo, l'asse portante del gruppo non c'è Il Timidro esiste per il bene di tutti i Pokémon Posso mettere in pratica quello che imparo qui? Per i miei scopi malvagi Va bene Diventerò ricco se rubacchio delle cose qui Se il nostro compare non avesse fatto pasticci a Ferrogipoli Non saremo certamente qui E lui? Ehi, che ci fai tu qui? Io? Io sono quello del Timidro che hai battuto prima, ricordi? Tieni, è per farmi perdonare Otteniamo l'MT46 che contiene furto Quindi non dimenticate di parlare assolutamente con questa recluta qui Ah, accipicchia Hai mandato a monte i nostri piani Stavo per rubacchiare qualcosa per rifarmi ma Non finisce qui Un giorno la pagherai E questa recluta improvvisamente scappa Scappa, non si sa dove ma Dovremmo salire Al primo piano Qui troviamo Una riproduzione della motonave Marea Riproduzione scala della nave in costruzione al cantiere del capitano Remo Yeah Si vede uno scienziato che ha i capelli tutti arruffati Che sta conducendo una serie di esperimenti Con uno strano apparecchio Tra l'altro A proposito di programmi, eccetera, eccetera Qui sotto troveremo il NaviTalk Che tra l'altro ho attivato Mi sono dimenticato di attivare Che è un aggeggio molto strano Che ci comunicherà tutte le novità Inerenti a A Owen Alla regione di Owen Diciamo che è una sorta di telegiornale E qui troveremo il Capitan Remo Si? Se stai cercando il Capitan Remo Sono io in persona Ah Dove Devono essere i pezzi Che ho ordinato dal signor Petri della Devon Perfetto, grazie Adesso possiamo prepararci per la spedizione Ma Fermi tutti Arrivano due reclute Ehi, 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 ehi Aspetta Quella valigetta è nostra Come? E voi chi siete? Siamo il Team Hydro Il Capo vuole quei pezzi Dammeli senza tante storie Oh, parte subito All'improvviso una Una lotta Contro una delle due reclute Suppongo, sì Che possiede un Pokémon Il primo è Carvagna Ciao Carvagna Eccoci qua Usiamo Mega Assorbimento Su Carvagna C'è l'adressario Eeeh K.O. Carvagna Ottimo Grovail sale a livello 21 E via Vinciamo sulla prima recluta Eh? Vediamo un po' cosa succede Ah Battuto da un bambino Oh, che disastro Il Capo andrà su tutte le furie Largo, incapace Che non sei altro Ci penso io Nel Team Hydro Sono 26 reclute Nel Team Hydro Solo 26 reclute Sono più forti di me Ah Quindi posso percepire La Difficoltà che avete Dentro questo Team Soltanto Dalla vostra forza Vai con Grovail Ci troviamo davanti Uno Zubat Boh Usiamo Mega Assorbimento Che devo fare? Che devo fare? Attacco d'ala Ehi La 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 Non si fa Proviamo a fare Attacco rapido Ok va meglio Caspita Ci ha confuso Ci ha confuso il nostro Grovail Dai 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 Attacca Grovail Ok attacco rapido E K O Zubat La prossima scelta è Carvagna Quindi Non lo so dai Continuiamo con Con il nostro Grovail Magari facciamo prima Usare Mega Assorbimento Speriamo Ah Siamo confusi E ci colpiamo da soli Fantastico Ah Carvagna usa Focal Energia Sinceramente Non mi aspettavo Però Super efficace K.O. Carvagna Ci riprendiamo Parte dei punti vita E andiamo avanti Via Che cosa? Come ho fatto a perdere Eppure sono Il temibile numero 27 Se torniamo a Mani Vuote Ne sentiremo delle belle Ah Non pensavo Che i nostri piani Sarebbero andati all'aria Per colpa di un bambino Oh Ecco qui Che arriva Ivan Il capitano Del team Idro E un tipetto Da Largo Perbacco Sono venuto qui di persona Per capire come può essere Tanto complicato Rubare una valigetta Ma vedo Solo una ciurma Di pappamolle Che non sa nemmeno Tenere testa Un moccioso Ehi tu Sei un ragazzino Ma non mi lasci intimidire E pensare che sei solo Un allenatore Alle prime armi Io sono Ivan Il capo del team Idro Di cui vedi qui Alcuni degli esemplari Meno brillanti Non lo sai? I Pokémon Le persone Tutte le forme di vita Vengono dal mare Già Il mare Ha un valore inestimabile Per tutte le creature viventi Tuttavia Gli esseri umani Lo stanno inquinando E danneggiando Per il loro Mero Mero Tornaconto Pian piano Questo tesoro Così prezioso Sarà rovinato per sempre Se fossimo solo noi Esseri umani A rimetterci Pazienza Sarebbe Giusto così Ma che ne sarà Dei Pokémon marini Se il mare diventa Ina Inaghe Inavitabile Inevitabile Non avranno più Un posto dove vivere Non potranno più Moltiplicarsi Tranquillamente Soffriranno senza avere Nessuna colpa Non posso sopportare Che accada una cosa simile Perciò Ho preso una decisione L'insensatezza Degli esseri umani Il mare in pericolo La natura Riporterò tutto Allo stato originario Ah Adesso basta Ho parlato anche troppo Per i miei gusti Ehi moccioso Per oggi finisce qui Ma non Ma se ci metterai di nuovo I bastoni tra le ruote Non lascerò correre Tienilo bene a mente Capito? Adesso Andiamocene Sfaticati Mi andavo ad aggiungere adesso Andiamocene Sfaticati Un tipo da comando Da solo comando Dunque Come hai fatto Come hai detto Che ti chiami? Ah si Dark Una situazione davvero tesa Meno male che c'eri tu Già Quasi dimenticavo Di ringraziarti Per avermi portato i pezzi Che ho ordinato alla Devon Consegniamo quindi La merce Devon Al Capitan Remo Non c'è tempo da perdere Dobbiamo partire Al più presto Alla scoperta Dei fondali marini Grazie ancora Scusa Ora devo scappare Arrivederci Quindi ragazzi Scendiamo da questa parte Sì E usciamo dal museo oceanografico Le reclute sono andate tutte via E insomma La pace regna tuttora Quindi 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 C'è ancora un bel po' di tempo E volevo farvi vedere Un'altra cosuccia Ci stanno Delle case Qui sotto Non so Ci siano degli strumenti Boh Vediamo un attimo Il mio pokemon Il mio pokemon Ha una natura lesta Ha una velocità maggiore Rispetto agli altri pokemon Della stessa specie Forse c'è un legame Tra La natura dei pokemon E l'aumento delle loro statistiche Forse Ok Tutti Aspettate un attimo Per partecipare a una gara È necessaria Una tessera gare Io ho ricevuto la mia da ortilla La stessa delle gare Ortilla Ok Lo terrò a mente Ortilla Che sarebbe la tizia delle gare Cioè niente Mi sa che non c'è altro da esplorare A parte questo cantiere qua Che volevo un attimo vedere Wow Che figata è mai questa Cioè c'è un cambio di grafica Stupendo Un viaggio tra fondali del mare Sarebbe davvero emozionante Un giorno mi piacerebbe esplorare gli abissi E chissà Anch'io vorrei andare ad esplorare i fondali marini Assieme al capitano Remo Nel sottomarino però Non c'è abbastanza spazio Se salgo io Non c'è più posto per il capitano Ok Sotto vediamo un distributore E qui una signorina Come dici? Stai cercando una nave? Spiacente Il servizio traghetto Non è disponibile al momento E niente Da questa parte Sarà possibile partire Se non erro ragazzi Non mi uccidete Verso Verso Port No Aspetta un attimo Su verde Cioè sì Sarà possibile partire a verde azzucoli Non lo so Non vorrei dire una Una capolata Ok ragazzi Diciamo che Per questo episodio è tutto Nella prossima parte Andremo a vedere Andremo a vedere Una cosa molto particolare Qui Alle gare Se ci stanno A Porto A Porto Salcepoli Quindi niente Io vi saluto E ci si becca Con la prossima parte Di Pokémon Zaffiro Alpha Non dimenticate Assolutamente Di passare Su PokémonTimes.it E se volete vedere La guida Pokémon Rubino Mega Passate sul canale Di Lore Tutto in descrizione Quindi niente Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.